Abbiamo avuto una commissione molto importante, la commissione che si occupa di sicurezza, Polizia Locale, perché abbiamo affrontato tematiche molto importanti e significativi sia sull'ordinamento delle polizie locali, anche dei gradi, in rapporto anche poi agli aspetti della carriera e quindi anche in merito a questo c'è stata un grande dibattito e una grande partecipazione da parte dei diversi comuni. È stata una discussione molto importante, molto significativa, verrà elaborato un documento che verrà portato in presidenza di Anci Liguria poi per poter arrivare all'elaborazione finale. Io credo però che il tema che è stato emerso e credo che sia importante è rivendicare l'importanza del ruolo e della funzione dell'autonomia dei comuni anche nel quadro organizzativo e di prospettiva anche delle graduazioni e della costruzione e della gestione dei corpi. Ecco, credo che questo sia stato un messaggio molto importante, molto significativo, su cui è stato ribadito un po' da parte di tutti. È stata presentata anche un'informativa su una nuova proposta di legge come secondo punto da parte del comandante Soro e abbiamo affrontato il tema del quadro della videosorveglianza, delle proposte per poter presentare i nuovi progetti. Anche questa è una tematica che sul sito del Bianci Liguria è presente tutto il dispositivo. È un tema questo molto importante che interessa diversi territori e c'è tutto il percorso che è stato indicato e dove sono state date informative a tutti i comuni. Il 7 e l'8 poi ci sarà un importante convegno che viene realizzato alla Spezia a cui credo che sia importante anche partecipare perché in qualche modo affronta le complessive tematiche che interessano la polizia locale ma le tematiche che interessano il rapporto anche dei comuni con i cittadini, la sicurezza, la gestione del sistema del traffico e le altre tematiche. Quindi è stata una commissione importante, sono molto contento, partecipata, molto partecipata e anche molto costruttiva.